Ore 18 e 50, suonano le campane delle cattedrali di Francia. Chiamano a raccolta i cuori in solidarietà con Notre-Dame de Paris, proprio nell'ora in cui sarebbe scoppiato l'incendio di lunedì sera. Il condizionale è d'obbligo al momento vista l'inchiesta in corso. Gli investigatori hanno ascoltato una trentina di persone addette al cantiere dei restauri. L'azienda responsabile dei lavori ha spiegato che non è stata compiuta alcuna operazione di saldatura e non sono state utilizzate fonti di calore. È stato unicamente eseguito il montaggio delle impalcature. L'ultimo operaio inoltre avrebbe lasciato il tetto alle 17 e 50, circa un'ora prima della rilevazione dell'incendio. Secondo il quotidiano Le Parisien, un bug informatico nel sistema avrebbe fuorviato gli agenti di sicurezza, individuando il focolaio in un lato diverso da quello effettivo. Una volta allertati, i pompieri si sono recati sul luogo in meno di 10 minuti, con tutti i mezzi disponibili, compresi degli aspiratori per alimentare le pompe con l'acqua della Senna. Ora il frontone del lato nord è quello che più preoccupa, la cui stabilità è tutta da verificare. Indebolita dal ruogo di lunedì sera, non è ancora scongiurato il pericolo di un crollo, al pari di parti della volta. 60 vigili del fuoco sono schierati per monitorare la situazione e raffreddare le parti ancora calde. Intanto è partita la raccolta dei fondi per la ricostruzione, che il presidente Macron vorrebbe chiudere in 5 anni, ma esperti ne prevedono almeno 10. La stima delle risorse da impiegare parla di un miliardo di euro. Oltre 800 milioni sarebbero già stati promessi da donazioni di cittadini e da ricchi mecenati, con non poche polemiche della sinistra francese sulla beneficenza esentasse di industriali che tagliano i salari ai lavoratori.